Noi riteniamo che questo provvedimento, come abbiamo detto, sia un provvedimento autoritario, dannoso e inutile. Autoritario perché è stato imposto dalla Giunta senza alcuna consultazione delle categorie economiche e questo purtroppo avviene ormai troppo di frequente. Dannoso perché va a danneggiare tutte le attività economiche del centro storico che vengono penalizzate rispetto ai centri commerciali perché sostanzialmente si rende molto difficile l'accesso del centro. È inutile perché nel merito del provvedimento una domenica e chiudere semplicemente una piccola zona non serve assolutamente niente per il discorso dell'inquinamento, delle polveri sottili. Ecco, si potevano fare dei distingue anche per alcune categorie di utenti della strada? Quello è un altro aspetto molto curioso. Il fatto è che non sono state fatte delle deroghe per persone che ad esempio hanno auto elettriche o auto a metano o auto ibride che sicuramente non sono inquinanti. Come si potrebbe fare per cercare di trovare una soluzione a questo problema secondo voi? Allora, noi della Lega Fano, grazie al nostro gruppo consigliare, abbiamo preparato una serie di proposte. Uno di questi sono ad esempio le agevolazioni per l'acquisto di nuove caldaie meno inquinanti, misura che è stata fatta altrove, la pulizia delle strade con delle macchine apposite per diminuire il livello delle polveri sottili, l'introduzione di parcheggi scampiatori dotati quindi che abbiano la possibilità di essere collegati al centro storico con delle navette, il miglioramento di tutti quelli che sono i percorsi ciclopedonali verso il centro storico e non ultimo la concertazione anche insieme all'altra città della zona, della costa, di misure adatte a prevenire l'inquinamento. Infine, una cosa che può essere molto utile e che appunto può portare delle misure ad hoc e automatizzate è quello di stabilire dei livelli, una specie di semaforo dell'inquinamento verde-giallo-rosso che introduca in maniera automatica delle misure di blocco qualora ce ne fosse bisogno.